7.000 euro è la cifra che un 36enne ha dovuto sborsare per il rapporto sessuale forse più caro della sua vita. Il giovane è stato multato dopo essere stato sorpreso dai vigili urbani di Eboli nella pinetta di Campolongo in compagnia di una prostituta. L'avventore era all'interno di un'auto priva di copertura assicurativa e che guidava senza patente. Una pattuglia della Polizia Municipale nel rispetto dell'ordinanza antiprostituzione emessa dal sindaco Cariello ha emesso a sua volta la maximulta lievitata fino a 7.000 euro con tanto di denuncia.